Con l'inizio del 2018 entra nel vivo il passaggio al Corecom, Comitato regionale per le comunicazioni, delle seconde deleghe anche in Campania. Il Comitato diviene quindi responsabile della definizione delle controversie tra cittadini e aziende della comunicazione, della tenuta del ROC, il registro degli operatori e del monitoraggio delle emittenti televisive private. Un passaggio di consegne tra l'Agicom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Corecom, salutato positivamente dal commissario Antonio Martusciello. Accanto a queste nuove responsabilità che attribuiamo al Corecom però diamo anche strumenti maggiori. Noi abbiamo realizzato un sistema che si chiama Concilia Web, che sarà operativo fra poco e che consentirà di mettere in automatico e di risolvere quindi le migliaia ormai di controversie che purtroppo mettono in relazione i consumatori, gli utenti con le compagnie di telecomunicazione. Il Corecom ha presentato il quadro di attività previste per il triennio 2018-2020 e al primo posto vi sono due obiettivi. Sensibilizzare l'opinione pubblica contro i fenomeni del bullismo e della violenza minorile e verso la tutela dei diritti delle donne, così come affermato dal presidente Domenico Falco. Una serie di campagne di sensibilizzazione sui minori, sul fiberbullismo e su una serie di attività che dovranno vedere coinvolte le agenzie di stampa e le televisioni locali che fino ad ora non hanno avuto quello che a loro spettava da parte delle istituzioni. In questo noi faremo un grosso passo in avanti, soprattutto a fianco ai lavoratori, a coloro i quali ci possono dare un aiuto per rideterminare le linee guida di una regione che ha bisogno soprattutto di senso civico, di educazione, di supporto alle fasce deboli e ai minori. Il Corecom nasce anche per questo. Sulla stessa lunghezza d'onda la presidente del Consiglio regionale, Rosa D'Amelio. In un momento difficile come questo mi piace ricordare, come questo per l'adolescenza, per i giovani di Napoli, per i messaggi devastanti che stanno arrivando a tutto il paese, che il Corecom dal punto di vista dell'informazione sui minori, della pubblicizzazione, del rapporto e del lavoro che deve fare in sinergia con gli organi di stampa ha un mandato importante che noi dobbiamo riassumere e lavorare in questa direzione.